C'è una... Allora, posso dire una cosa, io non giocherei mai a Dead by Daylight da solo, ad oggi. Cioè se saltassi fuori che trovassi, cioè che con il gruppetto di streamer ci mettessimo lì tipo giochiamo a Dead by Daylight, tra di noi, allora lo farei volentieri, ma tipo prendere e fare una partita così non lo farei mai, mi romperei proprio le scatole. Chi ci giocherebbe da solo? Zeb? Ah, cazienza ragazzi, ce la possiamo fare. Dead by Daylight, tra la fine ci puoi giocare o in quattro con killer a caso oppure in cinque con anche uno che fa il killer. A me fare killer non mi è mai piaciuto particolarmente. E ti metto questo, va bene. Allora, come è Mordekaiser contro il Merding? In realtà è molto forte perché può ultarmi e tirarmi via dalle trappole. Cioè dalle torrette. Oppure può fare così. Non sapevo avesse più range delle torrette stesse. Ok. È ora di dare fastidio, signore. Quanto mi mancava il donger fastidioso. Il donger bello fastidioso. Però questo mi sta tirando troppe tizze. Ok. Però sono stupido io che ci sto davanti. Cioè dovrei stare più indietro e basta. Se il pick perde si riprova? No. Pick perde, perde. Fa parte della vita. Si può vincere sempre. Tonk. Tonk. Guarda lì che fastidio. Il fastidio. Chi c'è? Vukong. Bigunker assicurato. Ah no, è botta. Ok. Il fastidio. Tonk. Oddio ma che cazzo è questo? Qualcuno che vuol darmi un po' di kill mi sa. Dove sono i nemici? What? Ok. Va bene. Ok. Ma che stanno facendo questi due macachi qua? Ma cacano eh cosa fanno? Ma cacano. Test il queen non superato. Non penso proprio. Non penso proprio. Niente superamento del test ragazzi. Niente superamento del test. E non sei consciente. Ah ma il merdinger è tipo sciacco più forte in top. Non pensare anzi. Andiamo ai black fair torch ragazzi. Ma penso di sì. Perché tra queste è l'unica che mi piace. Cioè l'udence è tipo me. Malignant. Lo staff. La shan's turn. Black fair torch. Molto carino. Un bel dps così. Ok. Lo mettiamo subito a cuccia il ragazzo. Quanto amo dare fastidio. Dove sta andando questo? Ah. Round due. Tonk. Ci provano ragazzi. Ci provano. Non sono morti solo perché hanno la ulti. Ora ce l'ho. Rattattattattattà. Quanto amo sto champion. Mi sento come quando gioco sciacco ma più forte. Perché il fastidio che provano è incommensurabile. Cioè abbiamo pure la skin da spiaggia. Cioè dai che meme. Oddio forse. Ah cazzo non posso vendere sto oggetto perché l'ho comprato e le torrette hanno fatto danno a Mordekaiser. Perché volevo prendere forse le scarache e le magic fame a sto punto sti cazzo. Cioè non fa differenza va bene. Potremmo un problemino? No? Anzi. Il problemino sarebbe se quelle tre kill fossero la nostra di carry finirebbe subito il game. Almeno così c'è sfida capito? Ci faremo sicuramente la zonia perché questi quattro qua sono pericolosi. Ma anche contro Mordekaiser la zonia è buona perché installargli la ulti non è niente male. Oh autoattacco. Bene. Eccomi qua. Basta ora di sluggiare. Sacco di merda. Eh siamo in Wukonk. E Draven non ha molto farm. A me sembra molto poco problematico sto Draven. Occhio brother ma sei pazzo? Sei pazzo. Dragelo Cirdix 100. Ma perché ti chiama Dragelo? Vabbè perché è tutto attaccato. Tac tac. Tic, tic. Tic, tac. Toc, toc, tac. Tic, toc, tac. Tic, 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 tac. Toc, tic, tic, tic. Tic, 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 tic. Ratatatatatatatatatata. Esatto. Proprio così. Stai attento Mordekaiser Ci sei già cascato una volta Dove sei? Ratatatat Oh Vabbè Ha funzionato Perfetto Grazie gelò Tic toc tac Tic tac toc E ti piace più il dolce o il salato? Un poco il dolce Grazie sir clapperone Ah oddio mi hai spaventato Non ci arrivo no Puoi tirare l'autoattacco Ecco qua Perfetto grazie clapperone del sub Siamo quasi a 90 In tutti i sensi Grazie mille E dopo 90 c'è 100 Eh sì Allora back ci prendiamo questo e questo Torniamo top A dare fastidio I missili per zonare Cavoli Lo sai Si vede che te ne intendi La pronuncia è proprio tu? No è un fake È un fake È un fake Oddio No No Nothing I can do E ti piace più dolce o il salato? Un poco dolce Nulla proprio Nulla che io possa fare Ho messo troppe torrette My bad Ora non le ho per pushare Però no Quello che basta per rompere i cuglioni a Mordekaiser Sborra Perfetto Oddio Più 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 Avevo le torrette che mi bastavano per vincere questo incredibile fight signori Le avevo Le avevo Le avevo Amici e amiche Erano lì Grazie Bot cotton Fioc Grazie del sub Tonk Oh quasi Ancora Ma che cazzo Ma che volete da me? C'è Yasuo qua dentro Vabbè Arrivo Ok Tutto è bene quello che finisce Tonk Mi gankan di nuovo? E sono molto contento Venite 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 C'è per tutti Venite Twitch Avere due canali Stribal Contemporane Aspetta no Che domanda Non ho capito quali regole di Twitch parli Alpha Mi ha preso E io prendo te Stronzo Un po' di rispetto Oh no C'è Wukong Ti prego Non mi gankare Non lo fare Ok Infatti non lo sta facendo Tipo no razzismo Politiche Allora Legale Per le regole di Twitch Avere due canali E stremare Contemporaneamente Su entrambi Cioè due canali Su Twitch Entrambi Oddio Non lo so Cioè ma non vedo Perché tu debba farlo Non lo so Posso dire che Non ci ho mai pensato Cioè avere due canali su Twitch E stremare su entrambi i canali Allo stesso momento Aiuto Torretta Aiuto Eh qua non potevo fare più di così Perché Cioè il problema è Porca puttana Se lui Se io metto le torrette all'interno della sua ulti Quando esco dalla ulti non le ho più Ma se non le metto Non riesco a sopravvivere Cioè è tipo Sei fregato contro Mordekaiser In un modo o nell'altro ti incula Principalmente E allora io lo inculerò buildandomi a Rely Asmongol ne ha due Sì ma lui strema su entrambi No ma quello che diceva The Alpha E si può streamare su entrambi contemporaneamente Sono tornato Però al punto che non c'hai nessun motivo per farlo Grazie Fefe Grazie 27 mesi bello mio Molto gentile Sì sì era anche solo due Cioè io posso creare anche set account Però È che non Ma sì Penso tu possa streamare su entrambi È che nessuno lo fa perché non ha senso Però Cioè non penso sia illegale Non vedo neanche perché dovrebbe essere illegale Cioè è che non serve e basta Tutto qui Vabbè comunque Gol resettino su Mordekaiser Ok Boh What? L'ho missato Ma è bello Mi sono fatto per rendere come un idiota Ma perché non subiscono danni questi? Ma perché questa ha una taglia? Vabbè Ho preso dei soldi Cioè mi hanno ingaggiato così Vabbè Ma i mailati stompano Manca il mid laner Vabbè Fine Allora forse vado di Zonia subito Sapete Perché ho già capito che la Zonia A me è troppo importante in sto game Sì 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 In uno inquadra i piedi solo per i fib Ma che miseria Facciamo un canale only sub Dove c'è la stream only solo dei sub C'è il pov dei piedi Con la webcam che streama sui piedi sotto È la stessa enticalite Però in uno c'è la fit E c'è l'opzione che solo abbonati Possono guardare sui sub La live Tonk Il Rai che forte Che fastidioso Forte ma soprattutto Fastidioso ragazzi Ok Mi chiedo perché nessuna streamer ci abbia mai pensato a fare questa cosa Ok Allora vediamo di terra giusta torre Mia torretta ha fatto 600 danni Mi sembra male Oh che due coglioni C'è sempre qualcun altro Quando esci da Ultimo Ardekaiser E intanto Yasuo fa 1v3 Iron Livello 13 Tre livelli sopra gli altri Capisco Capisco Primo game 5 sub e scegli lo svaldo Come una maiala Porca troia non ci credo Il Donger è tornato Sto godendo Mi mancavano gli uncut da 15 minuti dove abusi l'avversario e i tuoi alleati fanno cagare Ok Hai visto? Grazie Daniele Bentornato tra noi Bentornato Malphite 6-2 Tutti gli altri stanno facendo un po' schifo Daisy Unchained si chiama Vabbè Semplicemente un giga chad Malphite Grazie Grazie aver difeso la torre Ora ci penso io Grazie Ok sono tornato baby I'm back Io devo tenere la pressure top Perché così se vengono in top io sono contento Perché i miei alleati in teoria fanno robe Oppure il loro support shot al nostro mid laner Oh ma che due coglioni sta roba guarda Ah niente mi countera troppo sta ulti Mi toglie via tutte le torrette Che devo fare? Non posso neanche più uscire con la QSS ormai Cioè non puoi più counterarlo Mordekaiser Qui clicca la ulti Tu dici vabbè Non posso fare niente Fai di me ciò che vuoi Mi ulta Mi tira via tutte le torrette Ecco Fatto Divertiti Mi zona appena ti tira la spell nella R A parte che non volevo buttarlo Perché pensavo di potercela fare Ma ovviamente c'era anche Yasuo Cioè anche mi fossi salvato Eh no Semplicemente non Non c'ho counterplay con Con questo champion Perché io mi baso sulle torrette Il counterplay è avere Le full stack di torrette Rob Prendilo Guarda che danni mi sta facendo A cazzo What the fuck Dopo che è stato abusato Per tutta la lane Vabbè Ok Grazie Zonia Grazie Ora la completiamo Ok Yasuo che uccide tutti A parte che no Cioè non Fine Nel senso Due per uno E quello che è morto È l'ADKR04 Quindi Molto bene Voglio andare top Pushare la mid No penso andrò comunque top Perché quello ma pusha Non voglio abbandonare La mia lane Eh Ora si è fatto anche Il relay Quindi sarà molto dura Per noi Devo cercare Semplicemente Di rimanere con Con Abbastanza torrette Da poterle piazzare Nel regno delle ombre Lì Ma il fight sta un po' Flexando la sua armatura Mi sa Do cercare di tenere Più torrette Possibili E farle morire Non è la scelta Corretta Vabbè Fine Eh Otteneremo le torrette Per il Brasile Sì Purtroppo Ok Il Brasile È in un'altra lane Perché se io le uso tutte Lui mi ulta E io non ho più torrette Dopo E non mi salvo Però adesso C'ho anche la zona Quindi C'è già comunque La zona è molto forte Contro Mordekaiser Allora Qua appena La torretta Ecco Targhetta Il minion cannone Ci piazzo tutte le torrette Così che Sparia tutto E anche se Era Mordekaiser Io avrò preso Tutta la top lane Quindi va bene Comunque Mordekaiser Era ancora mid Ma la torretta Non attacca L'inibitor Io è rimasto Che lo attaccava Forse l'hanno cambiata Dai lì Acuccia Ah l'inibitor No Ah ok E pensavo di sì Invece Vabbè Eh mi ricordavo di sì Mi ricordo di sì Forte miséria Ma Io non mi lamento Non sei andato Quanta gente È venuta a prendermi qua Perfetto It's fine Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Oh Mordekaiser Oh Mordekaiser Ha fatto Quadra kill Uno contro quattro E non era affidato Sto tizio qua Non era 15-1 Era 6-6 E non lo so Non so Cosa sto sbagliando Non capisco Ha due item e mezzo Non lo so Cioè non devo lasciarlo da solo Col mio team Con tutto il team Non posso lasciarlo da solo Dove esserci anch'io Quel tizio qua Ha fatto quadra kill Uno v4 Quello lì Come si può essere Iron se si gioca Mordekaiser È un mistero Per me Cioè perché è impossibile Goal Benissimo Morirò Vero Forse Ok Non ha cliccato su di me Ma che cazzo Mori Ammazzate quel tizio Come fate Esistere un campione Così stupido Vabbè ce l'abbiamo fatta Beh Non so se andare di Rabadon O andare di questo E lui è full magic resist Ho paura che la buildino Anche gli altri Penso andare in magic pen Sti cazzi del Rabadon Cioè è forte il Rabadon Però Allora Vediamo se riusciamo a vincere L'ho giocata Aurora C'è anche il video su YouTube Ma una volta l'ho giocata Quando ero uscita Me l'hanno richiesta Poi basta Come ben sapete Io gioco ciò che mi richiede Il pubblico I've applied the formula For success Hmm It's smaller than the diagram Beh Mi hanno fatto un bel trappolone Ragazzi Benissimo Perché il nostro jungler Non sta avvenendo Perché il nostro jungler È a scampia Vabbè Ok It's working Bello sto tp mid Ma Wukong? Una cosa che accomuna Il loro team Che ho notato È che Ingaggiano tutti A cazzo di cane Hmm È smaller than the diagram Wonderful Ah non vedi che dannetti Bannetti Attenzione il flank Il flank di Emerdinger Eccolo Sulla fascia Vabbè Ha flashato Oddio no Andrò a defender botte Ragazzi Perché sembra Nessuno sembra interessato Vabbè che Effettivamente Stanno prendendo anche le wave Quindi Il signor Miguel Non penso Andrà troppo oltre Io li ho lasciati da soli di nuovo E sono morti tutti da Mordekaiser Di nuovo Non so cosa fare ragazzi Vi giuro Con sta gente Io non so cosa fare Per carriare questa gente È impossibile Vabbè C'è nulla che si possa fare Cioè Sono così E basta Proprio non ci arrivano Non ce la fanno Ancora la ulti È certo Niente Il timing ovviamente Il migliore che potesse avere Assoluto Che non potrebbe anche muovermi No Non si può vincere Contro Mordekaiser Cioè C'è proprio Non c'è niente da fare Ora morreranno tutti Di nuovo Dai con Viego Forse Oh Viego è diventato Mordekaiser Infatti ha shottato Draven Benissimo Aveva pure il flash Se si si ha ucciso tutti Senza flash Tanto non gli serve Il flash è per me L'unico che lo reggio Minimo sono io Quindi il flash Devo usarlo per me È dura ragazzi È veramente dura Non so Dov'è un flash Devo provare a picchiare subito Mordekaiser Se ci lanciamo su di lui Lui ammazzerà qualcuno Ma se fa uno per uno È worth Perché poi 4v4 Vinciamo Cioè lui è letteralmente L'unico che dà fastidio Però Peccato Ci ho provato Più veloce così Non potevo È proprio impossibile Più di così Non posso fare Ragazzi Oltretutto ha tutte le stats C'ha un miliardo Di armor Magic Resist AP HP Tutto C'ha tutto Mordekaiser Con quella build Allora Non stanno venendo da me Quindi Quindi Le torrette Non attaccano Abbiamo detto Gli inhibitor Ok Ma sì che lo stanno attaccando Ma che dite che non lo attaccano Ma ora lo stanno menando Ma ora lo stanno menando Qua Eh Ho sperato che non ci fosse nessuno Perché ovviamente Tutto il mio team È morto di nuovo Da Mordekaiser Allora Ehm Sì Non riescono a fargli danno Oh vabbè Io non c'ho la zona Non posso farmi a cazzo di che Oh però qua sì ci faccio Sono pazzo ci provo Che cazzo Eeeh questo è grave Oh Ok Siete morti tutti di nuovo E non da mordekaiser stavolta Ma come fate a far così schifo Dai fattemi andare a letto Quello dei cazzo è l'unica che non posso farlo Hai solo armatura brother Grazie Un playable top gaff Io non so Cosa dire guarda Report mordekaiser Per cosa Per averti aperto Il buco del culo Report mordekaiser Mi ha aperto l'ano Vabbè Io ho questa qua La carichiamo su Terek Lol Perché bisogna guadagnarci Da Cioè scusami Grafico dei danni Facciamoci due risate Vedo che hanno giocato molte persone all'interno di questa partita Cioè comunque La torre Quindi la torre Era buggata Perché l'ha attaccato l'inibitor Cioè non lo so Cioè non lo so Cioè non lo so